Vediamo quali sono gli errori che il tuo hotel non deve fare nel 2020. Ciao sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video, oggi dedicato interamente agli hotel. E vediamo quali sono gli errori che non devi fare online nel 2020. Perché se vai a vedere il tuo sito, molto probabilmente sarai fermo al 2005. Darci un'occhiata e se ti rendi conto che, come dico io, è il caso di rimediare. Quindi facciamo insieme un'analisi in questo video. Parliamo del tuo sito web. Da quanto tempo non rinnovi grafica e contenuti? È importante perché il tuo sito web è il bigliettino da visita ed è fondamentale nella strategia di marketing per portare più prenotazioni dirette. Come prima cosa vai a vedere la tua sezione offerta. Prima di tutto, ce l'hai? Se non ce l'hai, la devi creare e quindi devi metterci delle offerte. Se ce l'hai, vedi un po'. Molte volte noto che in questa sezione ci sono delle offerte scadute. Se oggi scade l'offerta, oggi la devi levare. Non ti puoi ricordare dopo tre mesi. Oppure oggi nel 2020 mi ritrovo l'offerta di Natale 2017. No, quindi modificala. Poi, peggio ancora, se invece hai una sezione offerta ma è vuota. Mettine sempre una. Che sia per la spa, che sia per l'ingresso in piscina, che sia da oggi per Pasqua, perché non è mai troppo presto. Ovvio, non mettere quello di Ferragosso, pensa a Pasqua, pensa a Carnevale, però, pensa a San Valentino ad esempio. Però, ecco, non andare così tanto avanti, non pensare fra sei mesi. Quindi, pianifica, devi avere sempre delle offerte che devono essere attive. Quindi sai che il giorno 15 ti scade una determinata offerta, togli quella vecchia e inserisci quella nuova. E così via, a catena. Con la pagina non deve mai essere vuota. Ma vediamo un altro elemento fondamentale del tuo sito, ovvero il Booking Engine. Ancora, molti di voi non vogliono spendere i soldi per il Booking Engine. E quindi che fanno? Li regalano Booking. Facile. Ora, non fate così, perché davvero è un ragionamento che non riuscite a capire. Il Booking Engine è fondamentale per le prenotazioni dirette. Mi sento tantissime volte dire, sì, ma a me chiamano, ma io ricevo l'email. Qua, 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 qua. Non le voglio sentire più queste cose. Il tempo che voi perdete tempo a fare un preventivo al telefono e poi a ricevere l'email, oppure a rispondere direttamente all'email, le persone, se vogliono ancora venire da voi, se ne vanno a prenotare su Booking. A meno che non abbiate fatto poco questa offerta stratosferica. Altrimenti vanno a prenotare da vostro competitor. Perché una cosa che non è chiara è che adesso siamo nell'era del tutto subito. Quindi io non posso perdere tempo con te che ancora sei nell'era dell'email. Io sono nell'era del Booking Engine. Vado con due click, carta di credito in mano, ho prenotato. Detto questo, parliamo dei prezzi. Vedi un po' quali sono i prezzi che hai messo sul tuo sito. Sono migliori o peggiori rispetto agli OTA? Perché fate questo errore. Ovvero, mettete il prezzo migliore su Booking.com, ad esempio, e sul vostro sito il prezzo più alto. Non è così. Voi dovete dare l'offerta migliore. Parliamo di numeri velocemente. Allora, avete messo la camera su Booking a 100 euro. Dovete pagare a meno il 18% di commissione. Quindi, 100 meno 18 fa 82 euro. Quindi a voi entrate in tasca 82 euro. Ripeto, non sto pensando alla fattura o ricevuta che sia. Mettete la camera a 100 euro su Booking, ma su vostro sito la mettete a 90. Il gioco è fatto. Le persone saranno invogliate a prenotare da vostro sito, semplicemente vedendo un prezzo, un'offerta più vantaggiosa. Voi, comunque, ci state andando sempre a guadagno. Altra cosa. Ovvio che, se il momento in cui mettete la camera a 90 euro su vostro sito, è a Booking a 100, non fate poi l'errore che è su Booking. Sì, a 100 euro, però mettete la colazione, non so, il cocktail benvenuto, tutto quanto, la nonna che ti fa, la sciarpa a mano, quello che volete voi. Ma, dell'offerta deve essere uguale. Quindi, a parità di offerta, il vostro prezzo deve essere migliore. È per questo motivo che voi avete bisogno di un Booking in Gene, in modo tale che vedano il prezzo migliore, e prenotano subito, velocemente. Il Booking in Gene non è una spesa, ma è un investimento. Il ROI è assicurato. E per quanto riguarda il sito, parliamo del copy. Il copy è fondamentale, perché è quello che puoi convincere le persone a prenotare. Quindi, lì dovete vendervi al meglio. È buona cosa cambiare il copy del proprio sito, almeno una volta all'anno, perché non è detto che oggi scrivi un copy bello, e poi questo copy funzioni. Magari non va bene, quindi testare. Mi raccomando, però, non testate un giorno, due giorni, ma ci vogliono mesi. E qui torna di nuovo in gioco il Booking in Gene. Perché? Perché ci sono dei Booking in Gene che vi permettono di monitorare il percorso che il vostro utente fa sul vostro sito. In questo modo avrete modo di vedere dove si è fermata la loro navigazione, magari a momento del pagamento, o magari su una determinata pagina. altra cosa fa vedere anche da dove si sono collegate le persone, eccetera, eccetera. Ci sono una marea di funzioni, ecco perché il Booking in Gene è fondamentale. In questo modo vedrete cosa va e cosa non va sul vostro sito. E da qui, per questo dico testate, in questo modo potete apportare le modifiche per migliorare sempre di più, per arrivare a ottenere, per così dire, il copy perfetto. Ma veniamo ai social. È fondamentale essere anche sui social. E mi raccomando, aggiornali sempre, non sperare di mettere oggi un'offerta e che questa venga vista e che le persone decidano poi di prenotare. Uno, devi sperare che le persone l'abbiano vista quell'offerta, che l'abbiano compresa, che ci abbiano pensato e che abbiano deciso di prenotare. Quindi non dare per scontato questo aspetto. Quando fai post, soprattutto, qualsiasi tipo di post, non lo stavo dicendo, soprattutto quelli dell'offerta, no, tutti i tipi di post devono avere delle foto belle. Quindi abbiamo dei cellulari decenti ormai che ci permettono di fare delle bellissime foto, non avete bisogno del fotografo, quindi fate delle belle foto a fuoco, colorate, invitanti. Ora, per quanto riguarda le foto degli hotel, di come gestirle sui social, ne parleremo in un altro video. Quindi mi raccomando, iscriviti così non perderai questo contenuto. Ma torniamo a noi sui post. Devi variare. Non potete mettere sempre le stesse cose, ma metti, non so, parla dei dintorni, parla del tuo borgo, della tua città, degli eventi, di quello che fate in hotel. Sì, mettere le foto anche delle stanze, dei piatti, del tuo personale. Quindi, magari hai un blog sul tuo sito e quindi metti gli articoli del tuo blog. Le cose che puoi mettere sono infinite. Quindi, varia, però cosa devi fare? Devi programmare. Perché altrimenti non puoi svegliarti una mattina e decidere quale post pubblicare oggi. Sì, magari lo puoi fare una, due volte, ma devi sempre pianificare. Questo è il miglior consiglio che vi posso dare in assoluto. Poi, in determinati casi, tipo post, delle offerte, è il caso di utilizzare le sponsorizzazioni. Se speri di spendere un euro, due euro, cinque euro, le sponsorizzazioni, sappi che stai partendo semplicemente tempo. Solo che, prima di spendere soldi, anche quantità importanti, sulle sponsorizzazioni, devi fare tutto il lavoro a priori. Quindi, la pagina Facebook deve essere curata, le informazioni deve essere giuste, mi raccomando, mannaggia, credetemi, trovo pagine Facebook con informazioni errate. Ma, una roba veramente importante, le informazioni principali di un hotel che sono errate. Quindi, mi raccomando, la pagina Facebook deve essere perfetta. Poi, pensate alle sponsorizzazioni. Ultimi suggerimenti. Come dicevo prima, pianifica sempre i tuoi contenuti, in modo tale, saprai anche pianificare le tue offerte ed essere sempre pronto e quindi riuscire a convertire i tuoi post in prenotazioni dirette. Altro consiglio, rispondi sempre alle recensioni. Queste recensioni possono essere poi utilizzate nel tuo sito o comunque anche come post, quindi far vedere le persone che altri si sono già trovati bene nel tuo hotel e quindi avranno la loro social proof che andando online stanno cercando. Ultimo consiglio, chiedi una consulenza. Ovvio, vi faccio questo video e non vi dico di chiedere una consulenza, ma ci mancherebbe. se non riesci a fare tutto quello che ti ho detto in precedenza e credimi, ti ho detto le basi sono poi le cose più semplici da fare, chiedi aiuto e contatta un social media manager che si occupi di tutto questo aspetto. i social media manager non vanno su Facebook e fanno un post così a caso la mattina, no, ma fanno molto di più. Questa è veramente la goccia nel mare perché c'è tanto lavoro da fare soprattutto per gli hotel, soprattutto per quegli hotel grandi che hanno una marea di servizi, ma tutti dal B&B all'hotel più grande non devono esimersi di fare marketing perché di quello di cui stiamo parlando. Marketing nel mondo digital. Quindi, oggi compiti a casa e andatevi a rivedere la vostra situazione online e se vi rendete conto di essere fermi al 2005 allora vi dovete dare una mossa. Quindi, in caso, andate a visitare il mio sito www.alessaboccanfuso.com prenotate una chiamata oppure contattate un social media manager ma basta che vi date una mossa e migliorate il vostro sito e iniziate a fatturare. Besos!